ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di aspirapolveri facciamo un test innanzitutto un unboxing perché mi è appena arrivato un folletto a batteria prima ho fatto un video qualche tempo fa su un aspiratore a batteria portatile che mi sono trovato bene ma ora per lavoro necessità di un qualcosa di di categoria superiore e ho voluto fare l'investimento partire col folletto della drover che è sempre diciamo tra i migliori mi è appena arrivato mi è arrivata la motore centrale il cobalt vk a 7 con l'accessorio hd 7 che è nato dalla scopa elettrica poi ho comprato anche la batteria di ricambio con caricabatterie diciamo portatile perché questo qui sennò va caricato automata direttamente alla alla corrente con l'accessorio si può caricare una seconda batteria o tutte e due ed è molto utile per chi deve fare pulizie di condomini o pulizie di grandi uffici grandi magazzini magari di avere più batterie di ricambio con l'accessorio molto utile guardiamo un po iniziamo un po ad aprire il nostro contenuto che mi è arrivato allora ordinando i soldi innanzitutto nella scatola troviamo un po di filtri di ricambio i sacchetti ecco una cosa che è importante io ho comprato questo proprio perché i sacchetti perché ero stufo di usare il classico aspiratore che hanno la diciamo contenitore che si riempie ogni volta dopo un'ora va sbottato quindi con questo penso sia leggermente più igienico per me per chi lo usa soprattutto i grandi ambienti qui c'è il caricabatterie quello tradizionale che andiamo ad aprire si chiama sc7 vediamo un po classico caricabatterie ne avrò due perché diciamo che nella seconda batteria ti danno anche questo è l'accessorio per cia semplicità è l'accessorio per caricare esternamente la batteria esternamente la propria macchina quindi non si parla che andare a incastrare questo qui e poi si prende la persona tra se c7 quando compri la batteria qui c'è la batteria aggiuntiva che si poi inserisce attaccare la spina e caricare questo è la parte accessorio facciamo un po di spazio invece nel quanto riguarda l'aspiratore nella scatola c'erano i sacchettini i teodoranti l'aspiratore pulizia tanto ecco questo è il corpo macchina centrale si chiama cold il covolto vk 7 e poi ma abbiamo la scopa e il che si inserisce così ora vediamo un po se c'è da rimuovere un po di fermi dentro c'è il sacchetto il cartoncino che mi dice che devo questo si gira allora mi dicevo girare un po complicato ma questo va fatto solo adesso allora tutti i nasi ok poi allora il cartoncino mi diceva che devo inserire la scopetta qui ok fa clac e poi messo a terra questo bisogna farlo ruotare ok 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 la velocità a quattro livelli c'è dennis che lui non piace per la polvere il poverino capita sempre in mezzo in questi video anche nell'altro era passato in mezzo dicevo la velocità a quattro varianti la 1 che è la minima ma già aspira 2 3 4 e poi c'era turbo tenendo tenendo premuto c'è anche la velocità turbo quindi 5 livelli a livello di design è molto bello è leggerissimo perché 2 kg e 3 con batteria più c'è sacchetto il sacchetto secondo me è una gran gran plus perché non ci si sporca e poi anche tutta questa praticità di sta in piedi da solo è leggerissimo maneggevole le ruote sono belle leggere pratiche mi piace poi io avevo già anche un folletto in casa e mi trovo bene quindi questo sicuramente per lavorare sarà un aiuto il mio gatto continuo guardarlo con sospetto ma è la sua natura come dire ed eccoci giunti alla fine di questo video io vi ringrazio di aver seguito questo video e vi invito a iscrivervi al canale per non perdere le novità in arrivo mi invito a chiedere nei commenti magari più avanti come mi sono trovato in modo da qualcuno dei dubbi posso rispondere maniera più completa dopo un po di utilizzo sicuramente avrò più conoscenza del prodotto e lo posso lo potrò consigliare a più persone ma sicuramente con questo andrà bene perché è un prodotto di altissima qualità quando uno prende le cose migliori sicuramente rimarrà soddisfatto quindi penso che sarò soddisfatto comunque chiedetevi nei commenti e vi risponderò nuovamente grazie e arrivederci al prossimo video ciao ciao